Ho capito che tutto quel che è successo, ascolto le ultime menzogne, le ultime settimane di bugie totali, pregiudicati che si ergono a padri costituenti, forse perché si dovranno costituire prima o poi... Non è l'unico pregiudicato per lo scuola. E qual è l'altro? Me lo dica? È in Parlamento? No, ho capito. Prende i quattrini pubblici? Però è stato ricerciuto dal tribunale, questo è in Parlamento. Però grazie a noi. Lo capite? Però forse prende ancora i quattrini pubblici, credo anche l'indennità... Il dovere di cronaca va detto che Berpe Grillo è stato ricerciuto... Il dovere di cronaca dovete dire che esistono i reati, come per esempio un omicidio colposo, che è una cosa, un reato ai danni della collettività, che è la prote fiscale un'altra. Se voi giornalisti non fate questa... Stavamo parlando di pregiudicati, non pregiudicati di un tipo di un altro. Un uomo come Berlusconi è pericoloso per le istituzioni, in quanto sembra che abbia comprato senatori, vi rendete conto?